Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò in anteprima la posizione degli anelli fluttuanti a Castello Corallo. La sfida è in arrivo questa settimana, quindi per adesso gli anelli non ci sono, ma vi posso dire con esatta precisione la loro posizione. In questo modo già sapete dove atterrare per prendere questi quattro anelli fluttuanti. Si trovano tutti ovviamente a Castello Corallo, qui in alto. Il primo anello potete trovarlo praticamente qua, su questo piccolo edificio qui. Il primo si trova qui, quindi segnatevi questo punto qua. Ecco qua, vedete? Questo è il primo punto. Vediamo adesso il secondo punto. Il secondo punto è quella struttura grande al centro della località. Cioè non potete assolutamente sbagliarvi. Dovete arrivare sul tetto di questa struttura qui che ho di fronte. Adesso vi mostro anche il punto ovviamente sulla mappa, in questo modo potete farvi un'idea. non ho i materiali per arrivare sul tetto ma si trova qui, su questa struttura qua. Quindi praticamente vi spostate da qui a qui. Questo è il secondo anello. Il terzo anello si trova su questa struttura adiacente, questo castello diciamo, qui sopra. Quindi vi spostate da qui a qui. L'ultimo si trova praticamente su questa struttura qua. Questa di fronte praticamente. Eccola qua, sempre sul tetto. Quindi gli anelli sono uno, due, tre e quattro. Li raccogliete e avete completato la sfida.